Ragazzi bentornati in questo nuovo video Oggi ho un'altra notizione raga Inaspettata dopo quella di Supercell che ci informa Dell'arrivo di questo nuovo gioco in beta già disponibile Everdale di cui vi parlerò tra poco perché devo dirvi una cosa Ragazzi vi invito a guardare questo video fino alla fine Durerà pochi minuti perché devo dirvi due cose Ragazzi abbiamo un altro gioco Supercell in fase di sviluppo Sembra E non è Clash Mini, non è Clash Quest, non è Clash Heroes E non è nemmeno Everdale Supercell sta creando un altro gioco Supercell non ancora annunciato E Drew ci dice questa cosa La scopriamo da lui E Drew raga come ben sapete è il dipendente di Supercell Ed è sempre stato il community manager di Clash Royale Quel tizio con la barba e con gli occhiali tatuato avete presente? Passa dal community manager di Clash Royale a fare signori A lavorare sempre in Supercell per un altro gioco non annunciato Avete capito bene ragazzi? Guardate questo tweet e tra l'altro questo video in realtà l'ho fatto anche sul mio secondo canale Ma ci tenevo a farvelo sapere anche di qua E vi ricordo che i gameplay di Everdale li sto facendo sul mio secondo canale Dragon 2 Il link è qua sotto in descrizione Guardate cosa ha scritto su Twitter il nostro Drew Dopo tre anni su Clash Royale lascio il team per lavorare su un gioco Supercell ancora non annunciato Per il momento come scrive tra parentesi as of yet Ragazzi Supercell sta facendo un altro gioco ancora Ma quanti ne stanno facendo? Secondo me questo però non sarà sull'universo di Clash come Heroes e Quest e Mini Ma come cacchio è possibile? Un altro gioco ancora ragazzi avete capito bene E questo è molto curioso Sarà un 2022 molto molto interessante per l'azienda e per il nostro rientrattenimento su smartphone Ma andando avanti poi nello stesso post dice Questa community è incredibile e sono triste di andarmene Ma non vedo l'ora che arrivi questa nuova opportunità per questo nuovo gioco Che spero di condividere con voi presto Raga wow Raga arriva un altro gioco Supercell Non si sa ancora niente ma secondo me tra poco avremo qualche notiziella Ragazzi cosa ne penso di Everdale? Devo dirvi la verità Everdale signori Everdale ci sto giocando e come dicevo prima sto facendo la serie sul secondo canale Everdale ragazzi è un gioco tipo ID Mi sono sbagliato non è tipo Clash of Clans In questo gioco non si va a combattere non ci sono battaglie E' più un gioco farming in stile ID In cui si progredisce con il gioco fino a crearsi un bel villaggio figo Ok? Ho creato il villaggio O meglio Sono entrato in un villaggio che è una sorta di clan in cui ci si aiuta con le risorse Questo gioco ragazzi malgrado non sia esattamente come Clash of Clans C'è qualcosa di molto interessante da condividere con i giocatori E' qualcosa di curioso questo game Non è uno schifino Come magari qualcuno di voi può pensare Quando gli viene in mente Ok sto giocando ad un gioco dove non ci sono le battaglie Ragazzi se ci giocate un attimo vi prende come gioco Vi prende E la sto sperimentando sulla mia pelle questa cosa Quindi è un gioco ragazzi molto in stile ID Se avete voglia di giocarci nel tempo libero Fidatevi raga che lo farete Perché qui si parla di interattività nel game In cui spostate tutti i personaggini Ci sono le animazioni eccetera E se non aprite il gioco per ore Ragazzi La cosa si sente Dovete sempre ragaprire il gioco praticamente E' un gioco fatto dove Dovete sempre ragaprire il gioco Non ce n'è C'è sempre da fare qualcosa E c'è sempre da riattivare i villageri Che sono tipo i muratori di Clash of Clans Nonostante non ci siano le battaglie Ragazzi rimane comunque un gioco interessante Questa è la mia opinione Ma ci tenevo assolutamente a dirlo Perché nel primo video vi ho detto Wow è uscito un nuovo gioco Super Saiyan in stile Clash of Clans In realtà sembra che non sia proprio così Perché è diverso da Clash of Clans Ma rimane sempre la cosa del creare un proprio villaggio E può diventare carina raga La cosa di farsi un villaggio epico Ma per scoprirne di più Vi lascio il link qua sotto del mio secondo canale In cui vi sto spiegando come funziona il villaggio Come si esce dalla valle Da questo villaggio E un po' di cosine che sto facendo sul secondo canale Ogni giorno raga con un nuovo episodio fisso Con un orario fisso Raga Voglio dirvi questa cosa Rimaniamo con questo 2022 In attesa anzi di questo 2022 In cui ci saranno tante novità Ma soprattutto Clash mini Occhio raga Clash mini Attivate la notifica Perché mi sa che stanno per arrivare notizie E Clash mini sarà un altro gioco Che tratterò probabilmente Molto probabilmente Sia qui sul primo canale Che sul secondo Però sul secondo intanto Andiamo avanti a palla Lì ogni giorno un video fisso Qui invece un po' Sto variando no Vi ho parlato del Del hack Del Di questo Di questo link scam Su Instagram Nel video di ieri Vi ho parlato di Di Tesla Robot Di un po' di cose fighe raga Che secondo me Ci sta a condividere con voi Grazie per la visione raga Grazie per la visione Guardatevi il video di ieri Qua sopra nella scheda cliccabile Noi ci vediamo Ad un prossimo video Signori Ciao